Matteo Sobrero si sta avvicinando, Matteo Sobrero si sta avvicinando, merita un applauso entusiasmante, eccolo qua il Piemontese, Matteo Sobrero, Matteo Sobrero scoglie una perla sul traguardo della Coppa Fiera di Mercasale Valdanno, via il tonometro per Matteo Sobrero. Murgano della Casino Maserati, Orlandi del Cycling Team Friuli, eccoli qua, ed è a Murgano, Murgano con Maddovani, Maddovani, Murgano, poi Orlandi e Tarossi, è subito la volata anche del gruppo inseguitore. Vincere la Coppa Fiera di Mercasale è qualcosa di speciale, credo che oggi veramente hai fatto una grande impresa. Sì, sono partito da lontano, anche perché oggi ci avevamo parlato con il mio compagno Battistella che l'anno scorso l'ha vinta, aveva il piacere di riconfermarsi, e quindi sono partito da lontano, ho detto anticipo, almeno lui può stare tranquillo, e poi abbiamo portato via un gruppo con una selezione sul secondo passaggio della salita e alla fine c'erano quasi uno per squadra, quindi non ci hanno lasciato tanto vantaggio, quindi eravamo sempre un po' lì incerti. Poi gli ultimi due passaggi li abbiamo fatti forti e l'ultimo poi dopo il GPM ho attaccato e sono arrivato all'arrivo da solo. Gran bel lavoro anche di Konishev, che è rientrato assieme ad un altro compagno nella fuga, e da quello che abbiamo sentito si è sacrificato un po' per te. Sì, devo dirgli un grazie speciale a lui, perché diciamo che se non fosse stato per il suo prezioso lavoro, questa vittoria non so se sarei riuscito a conquistarla, e niente, ho fatto un ottimo lavoro di entrare e poi si è sacrificato prima dell'ultimo passaggio in mio favore. A chi la dedichi la vittoria? La dedico a questa cova alla mia famiglia e alla mia squadra che mi sostiene sempre.